Ritieni che sia solo sfortuna oppure alla luce di questi risultati probabilmente questa squadra non ha la forza per arrivare fino in fondo? Se guardiamo sempre in ottica playoff chiaramente. Io affrontando nelle ultime partite delle concorrenti playoff come l'Aprilia e il Chieti non penso che noi siamo da meno. Quindi non credo che sia un fatto di qualità o altro. Penso che è un periodo un po' così dove le cose si vanno male. Nelle ultime tre partite abbiamo subito tre tiri in porta e tre gol. Quindi le cose diventano difficili in questo modo. Adesso, come ho detto prima, bisogna che ripartiamo subito con una vittoria e poi cercare di raggiungere innanzitutto la salvezza perché comunque siamo sempre, siamo a sei punti. E poi l'obiettivo playoff. Senti, niente scherzi con l'Aversa, no? No, con l'Aversa noi dobbiamo stare tranquilli, non stare a ascoltare le chiacchiere. Noi non interessano come abbiamo fatto nel giro d'andata, bisogna passare sopra tutto e cercare in tutti i modi di portare a casa la vittoria. Poi sicuramente in questo momento l'ambiente non ci aiuta, è anche difficile in questo caso, però penso che ci siamo già tirati fuori una volta, se non due. Quindi sono tranquillo e penso che riusciremo comunque anche questa volta. Ci sono margini per crederci, insomma, ancora? Per i playoff che dico. Sì, sì, certo, certo. Siamo comunque a quattro punti, se vinciamo domenica e una delle tre sbaglia siamo sempre lì, quindi non cambia assolutamente niente.